Capitan Marranco, oggi mancava recupero, è tornato Kevin, però i The Lions continuano sempre a vincere, non è un problema Abbiamo vinto 3-1, peccato l'ultimo gol finale, ci poteva dare quel 0,4 Ci serviva in classifica, non so gli special 5 quando è che gioco Stanno giocando adesso Stanno giocando, perciò ora seguirò Ottima prestazione da parte di tutti, sono mancati Marsale e il recupero, però ce le sono cadete alla grande Però ovviamente sono anche loro elementi della squadra importantissimi per noi C'è l'articolo 11 parlo C'è l'articolo 11 palma da citare, come sempre io quando lo cito in articolo 11, ce lo chiamo ogni partita Dà sempre il meglio, noi eravamo la coppia di Marsale Anche se siete rivali Anche se siamo rivali, però sta sotto i miei consigli tra virgolette e riesce a giocare bene Prende prestazione anche la sua Ma comunque da eloggiare la difesa con Bruno, Levanti e Bianco in porta Che hanno tenuto il risultato sempre sul 3-0, che è stato solamente alla fine Prende prestazione perciò di Bruno soprattutto Sì, ha fatto qualche bella parata Ci hanno messo veramente grinta Soprattutto Bianco appunto qualche grandissima parte Ora c'è un bel esame per voi, gli All Blacks Gli All Blacks che ora giocano contro gli Special Five Io non so come sono sinceramente, vedo la classifica Hanno battuto gli Zenit Sì, lo so Boh, speriamo di vincere Faremo di tutto per portare a casa il risultato Migliore in campo? Migliore in campo la difesa E dopo lì siamo ripartiti e abbiamo fatto una grande partita Perciò da eloggiare Levanti, Bruno Cilino, il portiere Ma anche io e Kevin e Falman ci sono caduti in attacco Abbiamo fatto grande partita, grandi passaggi E abbiamo portato a casa il risultato Complimenti Capitan Marranco Allora ci vediamo sabato prossimo Ciao, ciao, grazie